Ciao, ciao a tutti. Allora, siamo ancora qui con Alice fissa qui da me, perché la mamma purtroppo è ancora in ospedale. Tra l'altro in questi ultimi due giorni Alice ha avuto la febbre. Vuoi un po' di succo, amore? Sì. E quindi non ha nemmeno potuto andare all'asilo. Pippo osserva sempre. E niente, quindi oggi è una giornata casalinga. Peccato perché fuori c'è un sole meraviglioso. Magari nel pomeriggio poi, se si rinfresca Alice, andremo a fare un giretto. E come dicevo prima, appunto, sono ancora qui con Alice. Io non sono molto maniaca, anzi non sono per niente maniaca della pulizia in casa. Sì, mi piace tenere pulito, ma non ho la fobia, ecco, della casa pulita. Però, in questi giorni che Alice è qui, siamo messi in questo modo, non riesco proprio a avere la casa in ordine. D'altronde, ecco, il divano è messo così, sempre con giochi di Alice, ovunque. E io sono un po' sottotono, lo ammetto, perché non mi aspettavo questo secondo ricovero. Le cose sembravano andare bene e invece, purtroppo, anche se sembra che sia normale che ci siano queste ricadute, però io non è che sia proprio molto allegra. Adesso vado a fare ancora qualcosina con la mia pulita. La mia pulita è in casa dove ho appena finito di stendere i panni, Alice è in sala che gioca, mi dà tregua cinque minuti. E guardate là, è il parco, là in fondo, il parco dove ho fatto un blog un po' di tempo fa. È proprio vicinissimo a casa mia e c'è la collina là sopra. Guardate che giornata meravigliosa, davvero un peccato stare chiusi in casa. E Alice che chiede del papà. Papà, è il lavoro, amore. Devi giocare solo con... Oh, salute! Salute! Devi giocare con Pippo. Pippo non la lascia neanche un secondo, è sempre vicino a lei. Si lascia fare di tutto, poverino. Pippo non la lascia, non la lascia un po' stare, poverino. Ecco, gioca un po' con le tue cose, no? Pippo? Dallo, dallo a Pippo, dallo a Pippo. Pippo? Ecco. Ecco. Se non è lui che segue lei, è lei che segue lui. Proprio vero, bambini e cani, è un binomio perfetto. Vero Alice? Alice? Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Grazie.